La Rosa dell'Arezzo è sicuramente più esperta, ha sicuramente un vissuto diverso, sta facendo anche meglio rispetto a quello che in questo momento sta facendo il Ponte d'Era. Ciò non togli che non si vince per quello che è stato fatto o per quello che si è dimostrato ma si vincono le partite per quello che si dovrà dimostrare, perché dovremo avere più voglia di loro, dovremo avere la gamba che hanno loro, allora potremo far valere anche magari quel tasso di esperienza o quel tasso tecnico che secondo me in questo momento a livello generale possiamo avere anche un pochettino superiore a loro. Però è una squadra che corre, una squadra che è abituata a giocare su una superficie veloce come troveremo perché il sintetico di Ponte d'Era è molto veloce soprattutto quando si gioca di sera con un tasso di umidità elevato e in questo loro che sono bravissimi nell'attacco alla profondità se non lavoreremo bene ci metteranno in grande difficoltà e questo vorremmo evitarlo il più possibile perché se vogliamo fare il definitivo salto di qualità dobbiamo cominciare a portare a casa più punti di quelli che siamo stati capaci di fare finora dalle trasferte visto che ce ne abbiamo due da qui in avanti nelle prossime due gare vedremo di cominciare da subito. Sono contento di quello della gara che ha fatto Millesi contro il Piacenza mentre mi era piaciuto meno nella gara di Coppa Italia contro il Tutto Cuoio. Contro il Piacenza ci ha messo anche la voglia e la cattiveria che qualche volta non era riuscito a mettere in campo in altri momenti o anche in altre stagioni mentre col Piacenza ha fatto bene anche dal punto di vista caratteriale è anche vero che Muscat era andato a giocare in nazionale aveva fatto un'ottima gara a Pistoia e che non ha giocato solo esclusivamente perché non aveva recuperato non certo per demeriti quindi vedremo un pochettino fino alla fine mi riservo di comunicarla perché non l'ho detta neanche ai ragazzi sul discorso davanti è tutto un po' legato al discorso degli esterni con la possibilità di poter giocare con il trequartista oppure con i due attaccanti di ruolo è chiaro che nella seconda ipotesi agli esterni verrà chiesto un lavoro diverso perché altrimenti non ci possiamo permettere troppi giocatori oltre la palla perché abbiamo la necessità di lavorare bene anche nella fase di non possesso grazie 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 grazie